L'Isis, l'orrore nero, ha rivendicato il massacro di Sus, 39 morti su una delle spiagge più rinomate della Tunisia, per lo più turisti europei, tedeschi, belgi, irlandesi, britannici, nessun italiano, ma è solo un caso. I terroristi venuti dal mare volevano colpire il turismo, la fonte economica di un paese del Nord Africa in via di democratizzazione, un paese che si pone di traverso tra la Siria e la Libia nella folle avanzata del califato che vuole espandersi nel Mediterraneo. Nessuno stato occidentale è al sicuro, nemmeno l'Italia, il Museo del Bardo, a Tunisi persero la vita solo tre mesi fa quattro italiani e Isis venerdì 26 giugno ha colpito anche in Francia, in Kuwait, anche in Somalia è tornato il fondamentalismo islamico. Una nuova ondata di sangue e morte per impressionare, spaventare, destabilizzare la pace e la democrazia occidentale. E tutta l'Europa annuncia di aver intensificato i controlli, le misure di sicurezza. A Londra trapella la notizia che Scotland Yard avrebbe sventato un attentato in programma il giorno della parata delle forze armate. A Fiumicino, a Roma, è stato fermato un pakistano responsabile della strage di Peshawar del 2009. I vertici territoriali per la sicurezza si succedono nelle prefetture italiane. Nel bel paese sono 13.000 gli obiettivi sensibili. A Venezia, il prefetto Domenico Cutaia ha stilato un piano di rafforzamento dei presidi in aeroporti, stazioni, nodi autostradali e stradali, con l'ausilio anche dell'esercito. Un invito, infine, lo ha rivolto a tutti i sindaci per garantire il supporto dei rispettivi comandi di polizia locale, in appoggio ai monitoraggi di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Un quadro che muta in continuazione e liquido come fluido improvviso è il metodo di azione del terrorismo jihadista.